Prima di immergerti nel video, assicurati di iscriverti al canale. Iscrivendoti, sarai sempre il primo a scoprire i nostri nuovi video. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di far parte della nostra community. Grazie di cuore! Il segreto dietro la tragica morte di Tommy Schiavo Tommy Schiavo è scomparso in circostanze tragiche, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di molti. La sua improvvisa morte ha sconvolto fan e colleghi, diventando un evento di grande risonanza. Nato e cresciuto a Rio de Janeiro, Tommy ha sempre avuto una passione per la recitazione. Sin da piccolo, sognava di calcare i grandi palcoscenici e di apparire sul grande schermo. La sua carriera è stata costellata di successi, con ruoli indimenticabili che gli hanno valso numerosi premi. Il suo talento poliedrico gli ha permesso di spaziare tra vari generi cinematografici. Lontano dai riflettori, Tommy era un uomo semplice e riservato. Amava trascorrere il tempo con la sua famiglia e dedicarsi alla pittura, un hobby che trovava molto rilassante. L'incidente fatale è avvenuto quando è caduto dal terrazzo della sua abitazione. Le circostanze esatte rimangono ancora poco chiare, gettando un'ombra di mistero su quell'ultima, tragica giornata. Il giorno dell'incidente, Tommy Schiavo stava trascorrendo del tempo sul suo terrazzo, godendosi una giornata di sole. Nessuno avrebbe mai immaginato che quel momento di tranquillità si sarebbe trasformato in tragedia. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver visto Tommy perdere l'equilibrio e precipitare. Le prime dichiarazioni sono state confuse, con molti ancora sotto shock per l'accaduto e incapaci di spiegare i dettagli. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove i fan hanno espresso il loro cordoglio. Messaggi di affetto e tristezza sono stati condivisi da ogni parte del mondo. I colleghi di Tommy hanno subito reso omaggio alla sua memoria, ricordando il talento e la generosità dell'attore. Molti hanno condiviso aneddoti personali, evidenziando il lato umano di Tommy, oltre che quello professionale. La famiglia di Tommy è devastata dal dolore. In un comunicato emotivo, hanno ringraziato i fan per il loro supporto e hanno chiesto rispetto per la loro privacy durante questo momento difficile. Le indagini sulla scomparsa di Tommy Schiavo sono ancora in corso. La polizia sta cercando di ricostruire gli eventi e comprendere se ci siano state circostanze sospette o negligenze. Un video esclusivo delle riprese di sicurezza potrebbe rivelare nuovi dettagli sull'incidente. Le autorità stanno analizzando ogni fotogramma per chiarire cosa sia realmente accaduto quel tragico giorno. Le teorie sulla morte di Tommy sono molteplici. Alcuni credono sia stato un tragico incidente, mentre altri sospettano possa esserci stato un intervento esterno o una causa ancora ignota. La carriera di Tommy Schiavo, purtroppo interrotta, era in piena ascesa. Progetti futuri, tra cui collaborazioni con registi di fama mondiale, non vedranno mai la luce dopo la sua scomparsa. Nonostante la sua prematura scomparsa, Tommy lascia un'eredità artistica indelebile. I suoi ruoli memorabili e il suo talento continueranno a ispirare generazioni di attori e appassionati di cinema. I funerali di Tommy Schiavo saranno un evento solenne, con amici, familiari e colleghi che si riuniranno per rendergli omaggio. La cerimonia avrà luogo nella chiesa dove fu battezzato. I fan di Tommy possono commemorarlo attraverso gesti simbolici, come lasciare fiori nei luoghi a lui cari, organizzare proiezioni dei suoi film o condividere ricordi sui social media. La morte di Tommy ha colpito profondamente la comunità brasiliana, che lo vedeva come un simbolo di talento ed edizione. Numerose iniziative sono state organizzate per onorare la sua memoria. Nei media, la storia di Tommy è raccontata con rispetto e ammirazione, mettendo in luce non solo il suo talento artistico, ma anche la sua umanità e generosità verso il prossimo. Ricordare Tommy significa celebrare il suo contributo all'arte e alla cultura. Il suo lascito rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. La sua passione per la vita e l'arte continuerà a ispirare generazioni future.